Sono tutti internet Ah ok, che cosa c'è come intermedio? Pro? Allora, due case di cui la farmhouse, questa qua che abbiamo fatta adesso con l'attico che era pagata, poi ci sta la Asylum e la Regione, sono tutti intermedio Ah, Asylum proprio, pure intermedio, meno mai prima ho detto no, la Asylum no, non ci sarà Va bene, facciamola, riproviamo, è intermedio, non mi dispiacerebbe la nuova mappa C'è la Regione? Sì, magari così miglioriamo ancora di più Proviamo Troppo come devi droppare, bro, perché Quella manca Manca la roba tua Andiamo sempre come prima Tu con il congelatore, l'hai, io con l'MF Io quel congelatore, manco fossi lanciafiamme Sì, comunque sì Ah, troppo un paio di calmanti Ah, infatti non me l'ha fatto droppare Non me l'ho, non le avevo droppate Ok Prendo qualcosa da bere, arrivo Ok Pro? Ci sei? Sì, sì, era andata a prendere qualcosa da bere Stavo aspettando Allora, che cosa avevamo fatto la volta scorsa? Questo, questo, questo e tu Allora, io ho preso l'MF Ok E il crocifisso, perché così appena lo trovi Ok Fantasma sul sale Fai camminare Fai camminare Oh, questa è nuova Fai camminare un fantasma sul sale L'hanno aggiornato Prima era Non era così No, prima era solo utilizzare il sale Bellissimo Ah no, aspetta Può essere che Possessi due missioni diverse Vabbè Comunque questa Di usare il sale Ok Parla alle persone D'asule Ed è una donna Uh, guarda dove ci trova il generatore Dentro il coso dell'ala A Cazzo Dentro Dentro il blocco di celle Va bene Ok Se è in A Siamo tranquilli Il problema è se è in B Se il fantasma è in B Quello è il problema Eh, esatto Esatto Sì, però Però se Iniziamo a guardare A guardarci prima il lato delle celle A Sì, perché magari siamo fortunati Capito? Dico, siamo fortunati è un parolone Evitiamo di correre Accendiamo le luci che possiamo E ci regoliamo E ci regoliamo In conseguenza Correre no Che secondo me lo facciamo agitare O il primo giro Facciamo veloce Poi date la scelta Controlla qua Stai a controllare Stai a controllare direttamente? Sì Conviene Sì Ok Vado direttamente lì E se non lo troviamo Possiamo fare un giro Di più tranquilli interni Capito? Ok Controllati la mensa però Ok Sì, no Eh, devo accendere la luce La mensa Temperatura Stabile Qua è un luogo senza uscita È un luogo senza... No, no, non c'è Sì, è un luogo senza uscita Qua Non è cosa Andiamo Ok Dopo di ritorno Spegniamo la luce in mezzo Ah, ritorno Dici? Sì, sì Eh, non ci conviene Scusami Spegnere già adesso E attivare Dall'altra parte La luce Ecco Ho acceso dall'altra parte Per sicurezza Perché magari Se non sta qua in ala Sta in ala B Speriamo di no però Sento delle celle Che si aprono e si chiudono Rassicurante Era pezzi sicuri E' del gruppo LOL Appicciammo qua che luce Tanto adesso sto iniziando a capire un po' come funziona Quindi Ah, eccola Il generatore Vedi? Bro Ok, ok, ok No, è spiegato tu questa luce qua No Ok Sono acceso Alcune Non può fare un giro anche sopra Non consiglierei subito Allora andiamo nell'altro blocco prima? No, no Qua dobbiamo per forza fare Giusto per vedere se abbassa la temperatura Ma qua la temperatura è standard bro Troppo standard Allora non sta Sarà nell'altro blocco Sì Intanto posso andare dall'altra parte Anche perché Anche perché la temperatura si dovrebbe avvertire Con tutta la stanza Eh, però vorrei spegnere qualche luce però Almeno solo una luce voglio spegnere Una Così sono sicuro che non può Scattare Andiamo Vedi ho spento Quelli delle celle Quella di sopra Eh, quello di celle Ho spento anche Meglio così perché Non so dall'altra parte Quante luci accenderemo Almeno uno o due Dobbiamo accendere Ah, è aperto Proprio di su La Ok Se è aperto di su Meno mal Ok Quindi questa zona È proprio la Save zone Praticamente Sì Ho un segnalzone Sì Inizio Quale luce? La luce La luce è qua Nel blocco di celle Ah, sì Comunque sta sopra Secondo me Perché prima Non sta a 18 Prima era a 14 13 Ok Bene così No, due luci bastano Ora Esaminiamo sopra Prima Perché siccome sta sopra L'importante è che È illuminato Capito? In modo da abbassarci La sanità mentale Tu Sì Ma era una temperatura Molto bassa Quindi il fantasma Si trova proprio Dove si è trovato L'amico nostro Infatti Probabile Eh, però Oh, non ci abbiamo messo niente A fare tutto il giro Paticamente Se ci pensi 16 18 18 14 Non mi piace più Questo fatto Ah, perché? Va bene Possiamo andare Qui non c'è Comunque visto Abbiamo fatto Un percorso veloce Praticamente È piccolino Cioè Te l'ho detto Come Organizzazione Ok Come struttura Eh, lo so Spegniamo sempre Una luce Spegniamo solo Una luce Siamo tranquilli Eh sì Non voglio Alza troppo La luce No, perché Facendo così La sanità Stiamo tranquilli Capito? Più o meno Eh, tecnicamente sì Tutto il contrario Eh, non scordatevi Oh, vedi Abbiamo fatto tutto il giro Qualcosa mi dice che sta nelle stanze Qua dove sta? Bagni Ok Sì, è che volevo Qua non c'è È impossibile Secondo me sta nelle zone Allora all'ingresso Bro Controlla qua Ah, ci saremmo entrati Dopo Però Perché Mo voglio capire Aspetta Qua c'è una stanza Là Eh, là devo andare Vedi che È la libreria Mi interessava Anche qua Perché mo Il problema è capire Dove si trova Eh Eh, qua è brutto Se si nasconde qua Ma non c'è Non c'è Faccio così Spegniamo una luce Da qua Una Ci serve Solo una luce Spenta Io sento dei rumori Ma non lo è Eh, infatti Eh, no Ma che ora Dobbiamo fare il giro interno Mo dobbiamo entrare All'interno Eh, mo ci tocca Capito sta Sei qui? No Cavolo È un problema Capito Ah, qua si sale Aspetta Vuoi già salire Facciamo un ultimo controllo E poi saliamo Dall'altra parte Oh, salita Ma andiamo qui E poi saliamo dopo Qua, se si trovava Poi vicino da noi Abbiamo fatto un giro Inutile Eh, va bene Quello non è Però la stiamo memorizzando Vedi qua dove eravamo Nascosti prima Qua apriamo la porta Non si sa mai E' ora di salire Perché la cosa è strana Che non lo trovo Venti Pazzo Temperatura Venti Non è possibile Così Aspetta Eh, ma qua io non la conosco Sta zona Ok, non è qua Ma non ti segnala niente Il... Quattro No, lo avresti segnalo Quattro Sei Cinque E' qui nella zona computer Quattro Mettilo qua Buttalo qui Vaffanculo Sì, è qui Quella grande Fantasma Mf5 Comunque Era qui Per tutto sto tempo Bro Vabbè Non fa niente Va bene così Maddo Maffiatato in faccia Non so chi era Maschio o femmina Non me ne interessa Ma Mi hai fatto Mamma mia Oh, però sta due Passi Allora possiamo andare E ci droghiamo Siamo a posto Ci droghiamo Perché sicuramente Ma Ma ci ha dato Nello vecchio No, anche a me Tranquillo Ma era lì sopra Praticamente ci aspettava L'ingresso Mamma mia Allora La cosa buona Abbiamo l'MF5 Eh Eh, grazie Ha affiatato Grazie Comunque è comoda Essere in due Perché Perché non puoi fare Da solo questo In uno In due È separato E non si può fare No Droghiamoci Questo sta per Appari proprio Stava affiatato Malissimo A te A 46 Spera ho detto Un orbs qua Vabbè Devo mettere Uno all'interno Allora Ok Sono più tranquillo Uno Due E tu che cosa vuoi portare Sensore di movimento Che teniamo la missione E il libro Ok Ci inizia a mettere Già il libro Ok Io mi divertirò Con videocamere E macchina fotografe Se può riapparire Però è riapparso Perché Avevamo 40 Di sanità E 50 Più che è apparso Ci ha solo Sciatato Eh però è apparso Teoricamente è apparso Poi quando Eramo in un put Ha spento le luci Ti prego Non lo farà Ok No Ci ha seguito In pratica Ci ha spento La luce sotto Questa luce Qua però Rimaniamola accesa Qua l'ingresso E qua dove Dobbiamo operare Oh Hai rotto Ha acceso la porta No ha acceso Poi la luce Cioè ha sbattuto La porta Usciamo Ok Qua rimane acceso Le luci Tanto Mo Se peccoli orpos Siamo a posto Siamo già A due cose Ah Devi farlo parlare Devi parlare Ah si Tanto devo mettere Devo venire col sale Quindi dobbiamo farlo pure Calpestare Quindi A posto Non mi sembra che parla Se non mi sbaglio Le persone là Ah come sempre Tanto manco lo leggi Sei sicuro Ah ho fatto Due partite Su Doom 3 Madonna che ansia Sono più avanti Del previsto Che Non ci sono mai arrivato Finalmente Sono quattro ore Di gioco E mi trovo Sono a metà Praticamente E mamma mia Che ansia Eh lo so Ok Porta Porta il sale Accesa la luce Fui E portare Non c'è C'è Accesa la luce Si guarda La luce sta là Aspetta Magari siamo fortunati L'orbus Passa qua sotto No No è Troppo culo Eh troppa Troppa fortuna Quella accesa apposta Che sa che non Allora fammi pensare Patrizia Patrizia Oh a Patrizia Da quanto è che non sento questo nome L'hanno aggiunto da poco il nome Parla con le persone Allora ho portato la spirit E le impronte di citato Ok allora facciamo così Io vorrei Ok prendere questo e andiamo Il sale Senzore l'ha presa Ok Porta sale Porta Sale e macchina fotografica Si Guarda quella piccata la lucella Guarda da lì Guarda quella stronza E' l'unica lucella Dai quella la sala sta Sta proprio là Si beh adesso lo stiamo memorizzando finalmente Ah però dai stiamo memorizzando Oh stiamo memorizzando Qua stiamo memorizzando eh La nuova Si sembra più difficile a dire che a fare Eh questo si infatti Attenzione che dobbiamo per nasconderci un casino Ti metti gli scappi subito dalla casa alla porta a fianco E stiamo Ah si una stanza Una stanza di fronte E infatti ne abbiamo due quindi Ecco Pronta Non c'è Vediamo vicino le Non lasciamo Così non lasciamo Ok metti il sale Già ho messo Eh lasciami un po' qua De Dove sei? E' qui Parla A posto Voi dobbiamo solo capire se scrive Lascia le orbe e tutto il resto E per favore Non accende quella cacchia di luce Eh infatti L'abbiamo spentanata La bellissima volta Però abbiamo già Già abbiamo cose interessanti Solo che parla Ah e FM5 Si parla F5 Eh LMF si Eh no Già l'ho fatto Così mi tocco pensiero Impronte digitali Comunque In stanza Non ce ne so Non le lascio Secondo me Secondo me Scrive Orbs Perché sta spegnendo le luci Per non farsi trovare le orbe Te lo dico io Infatti Guarda che bella angolazione Al buio Il problema è che io Mi devo mettere un'altra videocamera Ho io un Gin Ho io un Oni Eccola Oh Che culo Abbiamo tutto Solo che non ha calpestato il sale Mi aspettavo che Lo calpestasse Dove l'ho messo io Vabbè Faccio così Io ho Avevo la macchina fotografica L'ho buttata involontariamente via E prendo un altro sale E Possiamo Posso fare una cosa Ci droghiamo E la provochiamo Magari Fai la foto La vuoi provocare Sei sicuro È un Gin Eh no Io mi Guarda Ci droghiamo Ultimo giro Tanto devo mettere il sale Abbiamo tutto Aspè Aspè Voglio ricontrollare un attimo L'orbus Sei sicuro Ma io l'ho vista No no L'ho vista anch'io L'ho vista anch'io Ah ok 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 Ah comunque ha calpestato il sale Però io volevo fargli la foto Abbiamo la possibilità E qua Dai Tanti ha due passi Guarda come ha accesa la luce Con la disgraziata Un'altra volta Ho preso Ho preso l'MF In modo che Sappiamo dove Dove reagisce Cioè dove sta Anzi Mo facciamo Bastardata ancora Che mi sono scordato una cosa Che ho lasciato la macchina fotografica Eh no Ne ho prese due Lascia stare quella a terra Prendi qua e prendi qualcosa che si illumina Eh quello stavo facendo Così mo la fottiamo Così facciamo un po' di luci Qua e là Questa patriciala Eh chi faccia mercura Gliela facciamo il culastrisce Come il suo pigiama Eh qui non credo sia quella o si può Chi lo sa Eh vabbè Se a me Invisore Il pigiama 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 Anche se quello L'americano Non è a striscia E vabbè Dettagli Può essere qualsiasi cosa Può essere sia striscia Bro Non mi fa bene l'ansia Ho cambiato E si spenda la torce E' naturale Questa cosa però La devono riparare E' bruttissimo Ah Qual è l'ucella Ah è accessa dall'esterno Quindi faceva Uh accalpestato il sale Una qui e l'altra Mettela al muro Mettela qua Esatto Sì Bene Quei che qua Mi ha affiatato Quindi Può essere qua Patricia Faccio un segno Dove sei? Aspetta Aspetta bro La luce è da fuori Ah ma la porta è aperta L'ha aperta a lei Ecco da dove era uscita Ecco da dove era uscita Quella disgraziata Ah qui non passa Per di là Di là dove abbiamo messo noi Ma di qua Patricia Dove sei? Mi hai fiatato in faccia Adesso voglio vederti Dove sei? Faccio un segno Questa è una zona di studio Comunque Della prigione Cioè proprio qua Ci sono i riziotti Che lavorano Penso noi all'archivio Madonna Mamma mia Ok ce ne andiamo Madonna Mette ansia Lei Ho detto Ho detto il pigiama Te la sei chiamata Porca miseria Non me l'aspettavo Quindi è in angolo là Hai visto com'è apparsa Nell'angolo estremo Lì stava praticamente Stava bella ferma Perché là Ci ho messo Proprio là L'ho messo il crocifisso Che cuore Ah l'hai buttato là Il crocifisso Sì Sta proprio là In mezzo ai tavoli No Dove lei è apparsa Era in fondo all'angolo Ho detto Perché te l'hai trasportata Davanti a me Oh però davanti a me Ha voluto farsi vedere Complimenti Grazie Oh ci volevi fare la foto Eh visto che è bellissima Porca miseria Che ansia Vaffanculo Patricia Madonna Mi ha fatto cagasotto Oh però Ho venuto bene Fantasma Orma Almeno ho qualcosa Guarda come è venuto Bellino Ok abbiamo fatto tutto Possiamo andare Sì Eh però Effettivamente Non è così grandissimo Abbiamo fatto Tutto Tutto l'abbiamo fatto Eh sì Intermedio Intermedio Eh però 160 è il massimo Eh Sì Infatti Cioè l'obiettivo è 30 Cioè abbiamo Ottenuto 30 Per aver scoperto Il fantasma Perché abbiamo fatto Tutte e tre gli obiettivi Abbiamo dato tutte e tre Le cose Alla fine Sì Ottimo Eh no l'hanno migliorato Prima era un 10 Era un 20 A casa Invece te lo fanno 30 Poi fa Ma forse Solamente Per i livelli grandi Magari ti paga 30 Può essere Per i livelli più grossi Può essere Eh Tengo Una brutta notizia Ma proprio brutta Abbiamo che cosa Solo abbiamo Ci stanno Ci stanno Due asylum E una prigione Ah Un livello di difficoltà Ok Gli asylum Sono professionali E la prigione Intermedica Eh Andiamo al Quello meno Pericoloso La prigione La prigione Intermedia Perché la asylum Professionale Cioè l'abbiamo Fatta pure prima Eh Quindi Proviamo A rifarlo